La promessa anticipazioni. Un segreto inconfessabile. Una rivelazione sussurrata nell'ombra. Candela si confida con Pia, dicendo di non aver mai chiamato Carlos. Ma se non è stato lui, allora chi ha voluto contattare? Questo è solo l'inizio di un intreccio di bugie e verità nascoste, che potrebbe sconvolgere per sempre la quiete della tenuta della promessa. Intanto, Leonora e Martina decidono di incontrarsi per mettere finalmente fine alle tensioni tra loro. Ma c'è davvero speranza di un vero riavvicinamento? Le due cugine, legate da un passato turbolento, si trovano davanti a una scelta. Chiarire o allontanarsi per sempre. Ma non sono le uniche ad affrontare sfide difficili. Cruz scopre che Manuel ha ripreso a volare, nonostante i suoi divieti. Lui però, stanco di essere controllato, la affronta a muso duro, dichiarando di non voler più essere messo all'angolo. E poi c'è Maria, lontana dalla promessa, che nonostante la sua innocenza continua a subire le ingiustizie della Marchesa. I suoi amici, però, non la lasceranno sola. Uniti, promettono di fare tutto il possibile per far emergere la verità e riportarla alla tenuta. Nel frattempo, intrighi sottili si dipanano tra le stanze segrete della promessa. Abel e Salvador, determinati a scoprire cosa nasconde Geronimo, si accordano per perquisire la sua stanza senza destare sospetti. Ma cosa troveranno? E cosa nasconde davvero Geronimo, che già è stato scoperto come il ladro dell'orologio di Don Lorenzo? Il giovane viene denunciato a pelaio, e la tensione alla tenuta cresce a ogni minuto. Leonor, con discrezione, si allontana ancora una volta dalla tenuta, salutando tutti prima di partire per New York, dove spera di realizzare i suoi sogni. Ma questa sarà davvero la sua ultima apparizione alla promessa? Nel frattempo, il padre di Abel, Eusebio Bueno, arriva alla tenuta, accolto con freddezza dal figlio. C'è qualcosa di strano in questo incontro, qualcosa che Iana e Manuel iniziano a percepire. Cosa si cela dietro l'apparenza di questo padre e figlio distanti? Mentre il mistero si infittisce, la tensione raggiunge l'apice quando Salvador, esasperato, minaccia Geronimo con un coltello. Cosa succederà adesso? Una sola certezza resta. Nulla è come sembra alla tenuta della promessa. Ora tocca a te. Cosa pensi che accadrà tra Abel e Geronimo? E cosa ne sarà di Maria? Scrivici nei commenti la tua opinione e dici cosa ti aspetti dal prossimo episodio. Ogni dettaglio potrebbe essere importante per risolvere questo enigma sempre più intricato. Ma attenzione, perché alla promessa niente è davvero prevedibile. Con nuovi arrivi, vecchi rancori e segreti che potrebbero sconvolgere tutti gli equilibri, il peggio potrebbe ancora dover venire. Non vorrai perderti il prossimo capitolo, vero? Resta con noi per scoprire quali sorprese ci riserverà il futuro e quali misteri verranno finalmente svelati, oppure nascosti per sempre. Se non vuoi perderti le prossime anticipazioni e vuoi saperne di più, scrivi sì nei commenti e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!